Ciao ragazzi da Vittorio, si è appena conclusa Lazio-Genoa, è incredibile come si faccia a soffrire anche una partita del genere La Lazio ha fatto qualcosa come 12 tiri in porta e fino all'ultimo secondo ha rischiato di pareggiare una partita che ha letteralmente dominato Dominato perché il Genoa ha fatto 3 gol su 3 tiri in porta, qualcosa di incredibile anche perché la Lazio è andata avanti 4-1 Sembrava in gestione della partita, poi quel calcio di rigore ingenuo di Danilo Cataldi ha riaperto tutto L'ennesimo gol sul primo palo di Reina ha dato speranze a Genoa e la Lazio ha dovuto chiudere in apnea gli ultimi minuti della partita Tre punti però importantissimi, la Lazio deve vincere tutte le partite da qua in poi, Milan ieri ha vinto per cui la Lazio non ha alternative Deve cercare di vincere e sperare che Milan e Juve perdono qualche punto per strada La partita era iniziata molto bene perché il primo quarto d'ora la Lazio ha tirato 4 volte in porta, 3 volte Ciro e Immobile, un'altra volta Lulic Perin che con la Lazio si esalta sempre, lui da romanista cerca sempre di dare il massimo contro la Lazio Però la Lazio sta giocando molto molto meglio del Genoa che nel primo tempo non si è praticamente visto Il primo gol, un po' fortunato, arriva dalla solita triangolazione veloce nello stretto con Tuku Correa che segna sul rimpallo Correa che sta in grandissima forma Siamo a 5 gol nelle ultime 4 partite per il Tuku Correa, questo dice tanto della sua condizione Il raddoppio arriva a fine primo tempo sul calcio di rigore netto sul Ciro e Immobile, altra triangolazione veloce centrale Masiello, se non mi sbaglio, è stato costretto, anzi Radonovic è stato costretto al fallo dal dischetto Ciro e Immobile, non ha sbagliato Ballardini nella ripresa cambia tutto, il Genoa passa un 3-4-1-2 iperoffensivo e arriva subito un po' a sorpresa il gol del Genoa Autogol di Marusic ma l'errore era Lulic, Reina, Lulic si è fatto scappare l'uomo, Reina poteva uscire per anticipare E' rimasto in porta e poi il cross al centro, Scamacca dietro era solo, Marusic ha provato a liberare ma l'ha messa nella propria porta Per fortuna la Lazio non ha accusato il colpo ed è subito andata a trovare il terzo gol Ancora grande Tucu Correa ma la Lazio ogni volta che attaccava metteva in grande difficoltà la squadra avversaria Quindi Tucu Correa doppietta per testimoniare quanto sia caldo questo giocatore adesso E poi è arrivato il quarto gol del Mago, Luiz Alberto, assist di Ciro e Mobile, grandissimo tiro a giro di Luiz Alberto Sembrava partita finita, la Lazio ha creato tantissimo, Perino ha fatto un altro paio di incredibili interventi La Lazio sembrava in gestione, tant'è che Inzaghi ha deciso di togliere Leiva che era monito e ha rischiato anche l'espulsione per Danilo Cataldi E là qualcosa si è rotto perché Cataldi ha regalato un rigore al Genoa molto subito Perché comunque non sarebbe andato da nessuna parte il giocatore del Genoa e da là la partita è cambiata Gol dal dischetto del Genoa e poi subito dopo il 4-3 Ancora una volta Reina incerto, tiro sul primo palo, Reina si tuffa sul secondo E poi l'altro errore anche perché erano usciti Luiz Alberto, Minkuisavic e chi è entrato non è che era partito proprio benissimo Marco Parolo è entrato al posto di Luiz Alberto, non si è visto ACPA Pro non ha dato quella stabilità al centrocampo che ci aspettavamo E quindi gli ultimi 5 minuti sono stati di vero terrore E' anche vero che negli ultimi 5 minuti Genoa non ha mai tirato in porta E anzi la Lazio ha avuto l'occasione del 5-3 che non ha sfruttato Comunque, 3 punti importantissimi per la Lazio 3 punti che tengono la Lazio in piena corsa Champions League Ciao, alla prossima